Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo video recensione, ho per voi uno yogurt bianco della Danone, che si chiama Hypro. Quindi è uno yogurt bianco con un quantitativo di proteine elevato. 480 grammi è la confezione, costa solitamente 2,99€, anche se io l'ho presa scontata. Se ti alleni come un pro, Hypro è all'alleato proteico che stavi cercando. Semplicemente latte, fermenti e un processo di ultrafiltrazione, perché mi non lo far fare sempre brutte figure queste parole? Vabbè. Che permette di concentrare le proteine per un'ultra cremosità. Quindi speriamo che sia più cremoso del classico yogurt normale. Ottieni il meglio dai suoi 48 grammi di proteine, prima o dopo il tuo workout. Gustalo al naturale, crea le tue bowl proteiche o usalo per arricchire le tue ricette. Passiamo ora agli ingredienti che sono latte scremate e fermenti lattici. Quindi perfetto. I valori nutrizionali per 100 grammi sono 57 chilocalorie, grassi 0,2, carboidrati 3,9, proteine 10. I valori nutrizionali ovviamente sono perfetti, simili allo yogurt greco. Non ci resta soltanto che assaggiare lo yogurt e vedere com'è. Vediamo subito. Dunque ragazzi, la consistenza fortunatamente si avvicina di più a quello dello yogurt greco. Quindi è molto più cremoso rispetto allo yogurt magro, bianco, perché a me è un po' cagare. Assaggiamo e vediamo com'è. Non ne prendo tanto perché si sa che comunque lo yogurt bianco abbia più o meno lo stesso sapore. Vediamo. Confermo pienamente che anche il sapore si avvicina leggermente a quello dello yogurt greco. Probabilmente questo è forse un po' più acido, ma neanche così tanto, perché alla fine lo yogurt bianco magro si sa che o che sia greco o che sia normale è piuttosto acido come sempre. Quindi anche questo per me è approvato. Può essere una valida alternativa anche al faie, perché si sa che lo yogurt greco faie costa un po' di più. Soprattutto in questo ultimo periodo in cui c'è un aumento di prezzi, anche nel settore dei latticini e via dicendo. Quindi per me è ok. Se questo video vi è piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Io vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!